La scelta di Temer per Aravena è molto opportuna perché questo tema dell'abitazione, principalmente l'abitazione sociale, è rimasto un po' dimenticato e il bisogno è molto forte, io credo che è molto importante parlare di questo e non solo dei grandi equipamenti, dei grandi edifici, difendere la qualità dell'architettura, sia per ricchi, sia per non ricchi, il problema è lo stesso, la qualità dell'architettura non dipende dei soldi o non dipende principalmente dei soldi, ma per il desiderio di dare qualità a tutti i programmi che esistono, non è un problema di soldi, si può fare con meno soldi l'architettura di grande qualità e questo è il tema che sempre mi ha interessato e ovviamente la cosa all'inverso, quando una cosa è bella è buona. Ciao.